Voglio testimoniare la voca di centinaia di persone che con maggiore passione erano possibili a tutto questo. Grazie, grazie a tutti. Premiati dirigenti, associazioni e atleti della provincia di Arezzo. È stata la Sala dei Grandi ad ospitare la cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni, con particolare riferimento ai risultati del 2021. È un momento celebrativo ed è giusto che ci siano anche questi momenti, ovvero dare riconoscimento alle nostre eccellenze, agli sportivi più giovani, a quelli che hanno fatto la storia. Quindi in questa Sala dei Grandi della provincia, che ormai ci ospita tradizionalmente, ci ritroviamo una volta all'anno per celebrare questo momento. Premiati i dirigenti Giancarlo Chiappini e Walter Giorni, rispettivamente con la stela d'argento e quella di bronzo. Stela di bronzo anche per l'associazione Compagnia del Pallone Grosso della Misericordia di Monte San Zavino. Consegnata la medaglia d'oro ad Andrea Fini, campione mondiale a squadre a quelli pesca il colpo. Medaglia d'argento a Samuele Bernardini, terzo classificato al campionato mondiale enduro. Martina Bartolomei, seconda all'europeo, schitta a squadre. A Gabriele Benedetti, campione italiano su strada Under-23. E a Andrea Conti, campione italiano di Taekwondo. Celebrati anche gli anniversari dalla data di fondazione del gruppo sportivo Vigili del Fuoco e del Panathlon, che compiono 60 anni, il centenario del Cavallino e del Laci ed infine la polisportiva Policiano e la polisportiva Albergo Oliveto, che tagliano il traguardo dei 50 anni di attività. Siamo estremamente soddisfatti di questo premio che il CONI ha voluto riconoscere a questa piccola realtà, che però ha fatto anche delle cose di un certo livello. Ringraziamento al CONI e al pensiero del gesto nel riconoscere quello che è nel lavoro fatto. Direi che qualcosa di buono e di importante lo si sta facendo per l'Arezzo, più che per l'Arezzo Calcio, per l'Arezzo Città.